buona sera a tutti e benvenuti come sempre bentornati al podcast quattro consigli manga i miei compagni ormai d'arme il buon mind e curteo che mi accompagnano sempre e questa sera con noi per parlare di manga sportivi c'è the golden carp ragazzi ciao ragazzi ciao ciao e niente io non so qua quanta gente mi conosca quindi magari mi presento sono uno youtuber molto emergente parlo di anime manga su youtube e mi piacciono gli spokon come si può intuire anche da questa maglietta che indosso che è quella di awashi e poi in generale ne parlo sempre quando ne parlo sono veramente felice di questo invito grazie ti troviamo nelle chat a urlare awashi in italia awashi in italia sono io ricordiamo appunto dato che hai detto di cos'è la maglia che è addosso cos'è la maglia che qualcuno ci recupererà su spotify apple tv apple music e altre cose quindi in questo momento carp potrebbe non avere addosso una maglia di awashi potrei anche essere nudo nudo come scott però chi ci segue in live lo saprà scusa devo prendere una cosa con la scala ti dispiace adesso vuoi far vedere la tua maglia di haikyu purtroppo io intanto comunque direi di fare una piccola introduzione no perché il manga sportivo è un genere molto interessante molto diffuso che ha avuto anche delle opere che hanno venduto davvero tantissimo anche nel panorama manga mondiale e delle opere che hanno saputo insomma conquistare anche pubblico in tantissimi paesi anche oltre il giappone insomma sono arrivate proprio al cuore dei lettori ma come nasce il manga sportivo lo spokon per arrivare alla nascita dello spokon non dobbiamo tornare indietro di un po di anni quanto dobbiamo tornare indietro dobbiamo tornare al 1964 a tokyo perché proprio tokyo perché c'erano le olimpiadi prima volta che l'asia ospita i giochi olimpici in assoluto il pubblico impazza totalmente per lo sport e di conseguenza nasce il fumetto sportivo giapponese introduco ora un po un personaggio chiave uno sceneggiatore che praticamente si è occupato di tantissime storie sportive di successo un certo ikki kajiwara all'anagrafe asaki takamori noto anche come asa o takamori pseudonimo che ha utilizzato per la scrittura del manga shita no jo roky jo insomma in italia il buon ikki kajiwara diventerà proprio in quegli anni il padre di questo genere di fumetto è un delinquente totale sin dalla giovane età praticamente un personaggio estremamente controverso inizia ad adottare pseudonimi diversi praticamente perché scriveva anche per riviste rivali e quindi voleva un po arraffare soldi dove poteva viveva una vita totalmente di eccessi e addirittura nel 1983 fu arrestato dopo aver praticamente picchiato il capo redattore di monthly shannon magazine di codansha e dalle indagini poi emergono una serie interminabile di crimini vari che ha commesso insomma la sua carriera un po lì è andata un po in crisi insomma nonostante comunque questa vita scapestrata diciamo ha sceneggiato quelli che sono stati considerati i primi fumetti sportivi che ai tempi avevano delle caratteristiche ben precise in particolare la loro forza era l'esagerazione di tutto a partire dalla drammaticità che era soprattutto una caratteristica fondamentale di queste opere erano estremamente drammatiche ma anche tutte le componenti sportive erano esagerate anche qualsiasi altra componente dei protagonisti la componente emozionale le emozioni che vivono sono veramente amplificate al massimo perché tutto questo perché c'era bisogno di questa esagerazione tutto era enfatizzato per colpire per far immedesimare diciamo il lettore all'ennesima potenza ok in italia oltre a rocky joe ricordiamo di questo autore anche l'uomo tigre che è stata veramente un'opera conosciutissima shingo tamai arrivano i super boys ma oggi io vi parlerò di quello che è considerato il primo e vero spokon della storia del manga un saldo del genere nato nel 1966 ovvero kyoji no hoshi la stella dei giants voglio sfatare un mito subito esistevano alcuni esempi di manga sportivi anche prima di questo ma soltanto la stella dei giants ha avuto quelle caratteristiche quel successo quella chiave di scrittura che poi è andata a influenzare tutto il resto e quindi è considerato proprio come dicevo in precedenza il primo vero spokon questo genere manterrà diciamo le stesse caratteristiche fino a circa gli anni 80 in particolare fino al 1981 perché proprio quest'anno perché in quell'anno il 1981 certo io oltre alla nascita di mind un certo io i cita kashi si inventa capitano subasa qui nasce un po lo spokon moderno usami anche occupo è nato nel 81 tanti 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 personaggi importanti sono nati nell 81 tanto pare questo questo spokon moderno che che nasce proporrà un po diciamo due filoni differenti perché da qui si lo spokon inizia un po anche a differenziarsi i filoni principali quali sono sono quello con personaggi dedicati e dotati di una tecnica mostruosa pensate ad esempio opere come magari faccio un esempio ice il 21 no la tecnica è esagerata è quasi c'è un fanta sportivo si arriva a fare delle azioni che sono veramente oltre l'umano oppure quelli un po più tendente ad una narrazione realistica e qui l'esempio secondo me più calzante l'esempio anche più di successo forse negli anni 90 abbiamo quel titolo che comunque ha fatto davvero la storia dello spokon è diventato un caposaldo del genere che è slam dunk di takeiko inoue ma torniamo al manga di cui vi voglio parlare stasera in tanti ricorderanno l'anime in tv come tommy la stella dei giants kyojin nooshi la stella dei giants scritto da iki kajiwara e disegnato da noboru kawasaki in giappone è stato pubblicato in 19 volumi tra il 1966 e il 1971 e arriva in italia per dinit in sei bei grossi volumoni quindi un'edizione un po particolare che è stata creata proprio appositamente per l'italia questo manga di che cosa parla è essenzialmente incentrato su una ossessione yuma devi diventare la stella dei giants questa è l'ossessione di itetsuoshi padre che per un drammatico infortunio che comunque ha avuto ha dovuto rinunciare proprio a questo suo sogno nonostante il talento immenso che aveva padre che riflette praticamente tutto questo sul figlio yuma su quel poveraccio del figlio yuma diciamolo così che deve diventare la stella più brillante dei giants la squadra più popolare del giappone a tutti i costi di che sport parliamo perdonami perché non parliamo di baseball ah ok ok i giants sono una popolarissima squadra di baseball giapponese quindi parliamo di baseball e parliamo soprattutto di sangue parliamo di sudore parliamo di sacrifici allenamenti massacranti che violano i diritti umani praticamente tutto questo per inseguire la vetta unico grande obiettivo itetsu è totalmente ossessionato il figlio yuma è costretto proprio ai peggiori sacrifici per poter raggiungere ogni minimo traguardo e anche per imparare ogni lezione più semplice questo veramente chioccante di questo manga la serie di giants è l'emblema del sacrificio stesso secondo me un sacrificio che deve poter come dire a riabilitare anche la famiglia osci e toglierla da una condizione di miseria in cui sfortunatamente si trova il padre infatti era proprio uno dei migliori giocatori di sempre dei giants ma non debuttò mai a causa proprio di questo brutto infortunio ora fa il manovale e vive un po di stenti con con il figlio yuma e con la figlia la sorella la sorella di yuma no ma è davvero disposto praticamente a fare qualsiasi sacrificio per trasformare il figlio in un campione di baseball lo sport quindi anche in questo manga va davvero oltre non è soltanto un mezzo di rivalsa per uscire dalla miseria proprio come vi dicevo prima quello è diciamo qualcosa di secondario la cosa fondamentale è raggiungere il gradino più alto e lì guardando il cielo guardando le stelle padre e figlio vedono sempre chiaro questo obiettivo altissimo secondo me è una storia che è incredibilmente toccante proprio per le caratteristiche che ha questo tipo di manga come vi dicevo per l'esagerazione tutto quanto a tratti è straziante proprio per quello che è costretto a vivere questo povero ragazzo a me mi ha colpito tantissimo e sono riuscito anche a percepire proprio queste situazioni così enfatizzate che Kiki Kajiwara voleva dare all'opera il disegno è molto classico no ricorda molto stile stile primi stili insomma lo stile manga un pochino vecchiotto no magari per qualcuno che è abituato al manga moderno potrebbe un po come dire stonare però è diciamo il classico disegno un pochino più per ragazzi che si è utilizzato negli anni 60 70 diciamo quindi siamo siamo diciamo su quel filone lì ricorda un po anche diciamo il nagai di quegli anni molto molto simile come sia disegno però devo dire che nonostante tutto si nota sì lo scorrere del tempo ma la lettura per me è stata estremamente scorrevole complice sicuramente anche una narrazione che è strano strutturata passiamo dai maltrattamenti alla consapevolezza alle dure lezioni di vita ad antagonisti che sono costruiti continuamente ad hoc per la crescita di humor praticamente quando pensate che il nostro povero personaggio ha toccato il fondo ed è riuscito a rialzarsi con orgoglio raggiungere un obiettivo la vita lo colpisce sempre più duramente non c'è un legame che regge non c'è un'amicizia che regge ci si ritrova addirittura questo povero ragazzo che non può nemmeno amare non può nemmeno amare nessuno in particolare anche per un evento super tragico che gli accade all'interno di questo manga è una storia davvero che secondo me proprio ti travolge allo stesso tempo ti stupisce sempre perché riesci sempre ad essere stupito dal peggio che succede capitolo dopo capitolo per me è stata una lettura vi dico in tutta sincerità da brividi io dico sempre che secondo me non ci sono manga imprescindibili ma leggere qualcosa di questo tipo cioè il fumetto dal quale è partito davvero un intero genere per me è stato fantastico i personaggi sono tutti devastanti non c'è soltanto yuma e itezu come vi ho citato prima ma anche tutti i rivai del ragazzo sono pazzeschi e resteranno un po in tutto l'arco della storia perché sono personaggi secondo me immensi non è il classico sconfiggi l'avversario e poi passi a qualcuno di più forte sì arrivano anche altri personaggi che in qualche modo sono o più forti o più preparati o sotto un certo aspetto sono i rivali giusti al momento giusto ma i rivali di sempre crescono con il protagonista anche loro fanno sacrifici e allenamenti massacranti anche loro cercano in tutti i modi di prevalere per me resta uno degli spocom più belli ed emozionanti che abbia mai letto e quindi io questa sera consiglio la stella dei giants ragazzi a me ha sempre attirato proprio per il fatto che fosse il primo spocom della storia non ho mai avuto il piacere di leggerlo o di guardarlo ma è uno dei prossimi recuperi sicuramente che farò e so più che altro che quell'edizione ha avuto un paio di problemi se ne parlavo un po' di tempo fa sì no ci sono c'è qualche tavola che è stata diciamo riportata orizzontalmente invece che verticale per carità ci sono stati alcuni piccoli errorini in alcune come dire vignette dove alcune scritte apparivano e sparivano però io anche tutte queste cose queste lamentele in generale della community manga spesso per me lasciano un po' il tempo che trovano perché alla fine non è che è qualcosa che inficia o va a togliere qualcosa la bellezza si metto tendenzialmente poi è logico che uno spende dei soldi quindi si aspetta che il prodotto che ha in mano sia comunque ben fatto non ci siano errori quanto quanto viene a volume beh allora il volume costa tanto però è 24 90 però come vedi è un bel volume cioè c'è tanto da leggere insomma ma quanti sono in quell'edizione lì i volumi in totale sono sei sono sei volumi sono 19 nell'originale esatto esatto 19 volumi condensati in sei quindi alla fine il prezzo secondo me anche per essere un'edizione di init che di solito le edizioni di init sono abbastanza costose il prezzo è onesto secondo me per questo numero di pagine per un volume così grande no a me ha attirato sempre la particolarità del fatto che fosse crudo a me piacciono quegli spocon crudi inizialmente violenti che poi vanno sempre a seguire le diciamo non so se ti sei visto anche quegli animi classici tipo insomma mila nazionale di pallavolo questi titoli un po così cioè lì c'erano quegli allenamenti già brutali queste cose e sono cose un po derivative da questo tipo di manga ma anche lo stesso rocky joe no lo vedi il po il povero joe si gioia buchi si trova praticamente a vivere a parte la condizione di miseria tutto il discorso del del dopoguerra tutta la situazione che sta vivendo ma in prigione anche la prigione disagi cioè sono storie spesso di grande sofferenza ok molto diverse dallo spoco moderno che è molto più incentrato magari sulla parte sportiva più che sui personaggi qui si cercava cioè magari la partita c'era vedevi qualche azione vedevi qualche cosa vedi cosa succedeva vedevi l'esito ma non non è come uno spoco come slam dunk dove tutti vivi tutta la partita il cardiopalma e sei lì a bramare cosa succede vai fanno vedere la prossima azione no e ti godi veramente tantissimo lo sport in uno spoco del genere qui lo sport è sì parte integrante della storia perché comunque sono storie di sport però sono soprattutto storie di personaggi che si trovano spesso a vivere condizioni davvero estreme sai che secondo me c'è comunque qualche eccezione perché ad esempio il mio anime preferito secondo me è stato anzi senza secondo me è ha preso proprio spunto da tommy stella di giants per la brutalità dell'incipit ma in generale il passato di tutti i personaggi specialmente i protagonisti che è major sì 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 secondo me ha veramente preso ci sono anche eccezioni perché nel mentre arrivò anche mizuru adaci comunque prima degli anni 80 che già con lo spoco anche viene un po associato molto allo slice of life importante anche un po a romance inizia a portare manga comunque importanti come touch anche lui ha lanciato un po quel genere quel genere diciamo che secondo me oggi sfocia in titoli come magari blue box ok che è andato a riprendere un po quel classico manga di adaci l'ha secondo me rivisitato in maniera moderna con uno stile di disegno molto più fresco molto più eh espressivo molto più differenziato eh con il giusto diciamo equilibrio tra manga sportivo e commedia romante blue box è lo spocon di punta di weekly shonen jump al momento perché tanto è il momento è quello che stanno basket e romance basket e romance non solo anche eh eh volano giocano insomma anche volano badminton esatto altro ora va molto di moda allenarsi per il badminton quindi forse si si sono ispirati molto anche a rubò all'attualità assolutamente tipo c'è c'è anche un altro spocon sul badminton eh anebado sì bellissimo ma io mi sono letto anche un manga che ha delle vibes eh bl sul badminton molto carino che si chiama S di Setona Mizushiro che lei generalmente fa storie bl però questo diciamo che ci sono soltanto delle vibes non è un bl ma è una bella storia di questi ragazzi che giocano a badminton in coppia e anche no tutta la gelosia di chi cambia compagno di squadra per riuscire ad emergere o meno insomma queste cose qua si rivedono un po le dinamiche quasi del dell'innamoramento con il compagno di squadra con cui condivido diciamo il tutto siamo partiti da un manga vecchissimo per passare ora ad un manga che praticamente è in corso che è uno dei manga più discussi uno dei manga del momento buon mind stasera di che cosa ci parli stasera per chi mi conosce potrebbe anche aspettarselo insomma io invece porto probabilmente uno degli spocon meno spocon porto blu loc perché dico uno degli spocon meno spocon perché con questa introduzione di di michele mari hai dato come dire le linee guida di come si definisce uno spocon probabilmente no quali sono un po i canoni classici invece blu loc si fa anche quasi fatica a definirlo uno spocon e sono d'accordo adesso questa cosa qua e però io lo porto perché in rappresentanza di tutti coloro che in realtà non amano molto lo sport e di conseguenza non amano molto neanche gli spocon insomma io ne ho letti qualche spocon l'ho letto qualcuno l'ho letto anche con piacere anzi potrei dire che tutti quelli che ho letto li ho letti con il con piacere però non erano le mie corde no cioè non è la il mio genere preferito però in blu loc ho trovato invece tutto quello quello che tantissime cose che che cerco in un manga e quindi e quindi vi porto blu loc allora intanto ve lo presento da un punto di vista tecnico allora la storia è di mune yuki kaneshiro abbiamo parlato anche l'altra volta perché lo stesso di jagan jagan di as the god will i disegni sono di yusuke nomura che ha disegnato un manga che io ho letto e con dispiacere hai letto anche dolly kill kill dolly kill kill sì che con dispiacere ho visto interrotto per probabilmente non c'è stato un grande successo di lettori però e adesso sta disegnando il manga sulle palle di bowling giusto non lo so sinceramente forse mi dici caricino che lo scrive del disegnatore no mi confondo sì l'altro sbocondio vi parleremo in futuro esattamente e adesso mi hai fatto perdere il filo cosa volevo dire stavi raccontando dell'autore del disegnatore dolly kill kill che è stato interrotto ah sì no dicevo che appunto in realtà è stato concluso non è stato interrotto però è stato concluso in maniera un po affrettata allora bluelock è uscito in giappone nel 2018 attualmente sono usciti 28 volumi in giappone in prosecuzione come detto in italia è arrivato nel 2021 e ad oggi siamo 24 volumi usciti in giappone l'editore codansha in italia esce con planet manga quindi panini comics il target è uno shonen è la rivista e wiki weekly shonen magazine e appunto il genere formalmente è uno spocon per quanto atipico sì allora sottolineo il fatto per i detrattori che nel 2021 l'opera ha vinto il 45esimo codansha manga award nella categoria mundial shonen e che ajime isayama ha commentato bluelock consigliando l'opera ai suoi lettori insomma non l'ultimo degli scappati di casa quindi qualcosa di buono dovrebbe avere ma lo leggerà ora che aprirà le terme voleva aprire le terme dopo l'attacco di giganti starà lì a leggere bluelock alle terme può essere può essere un buon e tra l'altro bluelock anche un manga impermeabile è bello anche per quello le terme non si bagna allora la trama allora prima secondo me bisogna fare una premessa bisogna insomma premettere che il calcio giapponese sostanzialmente è un in in giappone lo il calcio è entrato molto più tardi rispetto ai paesi europei il calcio giapponese ottiene un riconoscimento a livello nazionale solo in tempi recenti quando nel 1998 la nazionale giapponese esordisce per la prima volta quindi nel campionato del mondo di calcio e fatta questa premessa bluelock inizia con l'eliminazione del giappone ai mondiali di calcio del 2018 e in questo periodo in realtà il calcio in giappone visto come una fonte all'interno del manga quanto meno come una fonte di profitto sul quale si investe il giusto non non c'è una vera attenzione a far crescere il calcio in giappone questo è quello che viene rappresentato nel manga ma è solo un modo per far soldi viene rappresentato in questa maniera nelle prime vignette del manga fino a quando a un certo punto un personaggio che ha irritato ieri se non sbaglio si chiama convince la federazione calcistica giapponese a creare un programma ad accettare di avviare un programma per trovare giovani promettenti e prepararli per i mondiali del 2022 quindi portare il giappone a raggiungere un livello parificato al resto del mondo sostanzialmente e l'allenatore di questo programma è ego jimpachi che se vogliamo per qualche è il coprotagonista possiamo dire ci sono due protagonisti da una parte c'è ego e dall'altra c'è un altro personaggio di cui vi parlerò dopo che è il vero protagonista formale ego jimpachi ha l'obiettivo di distruggere il calcio perdente giapponese così lo definisce no cioè dice il calcio in giappone è un calcio per perdenti io invece voglio istituire un nuovo calcio che è quello che appunto c'è nel resto del mondo in europa in particolare e vuole utilizzare un metodo rivoluzionario che consiste nell'isolare 300 giovani promettenti attaccanti under 18 in una struttura simile a una prigione che chiama blue lock e lì vuole sottoporre un rigolo rigoroso allenamento volto a creare l'attaccante più egoista e quindi dal suo punto di vista migliore al mondo sul quale fondare la nuova nazionale giapponese under 20 e sostanzialmente jimpachi sostiene che ogni ruolo nel calcio si può si può plasmare attraverso l'allenamento ma in e il giappone in questa cosa è già molto capace il giappone proprio per tratti culturali è molto in grado di come dire costruire le persone giuste per i vari ruoli anche a livello di società diciamo così ma per per il ruolo di attaccante la storia è diversa dal punto di vista di ego l'attaccante appartiene a una specie diversa e deve essere in qualche modo risvegliato quindi lui ha un'idea su come risvegliare anche questo ruolo all'interno del del giappone il programma del blue lock è quindi distopico prevede lo scardinamento del calcio come gioco di squadra infatti tutti coloro che amano il calcio in quanto gioco di squadra si trovano spiazzati e probabilmente odiano anche questo tipo di presentazione del calcio perché ha l'opposto di quello che di solito si presenta quando si impara a giocare a calcio la prima cosa che si deve imparare è giocare insieme giocare anche un po mind all'opposto proprio dei classici spokon giapponesi no che normalmente si presentano sempre come tutti quanti ci prendiamo per mano insieme in squadra arriviamo all'obiettivo no infatti io blue lock lo chiamo l'anti spokon infatti stavo per dirlo io stavo per usare proprio queste queste parole e in effetti va proprio al contrario di quello che ci si aspetterebbe da uno spokon e e al centro viene messo l'egoismo quindi il contrario del gioco di squadra e la vittoria come unico scopo cioè non c'è stare insieme vincere insieme giocare insieme il bello di essere un gruppo no c'è solo la vittoria come unico scopo e quindi jimpachi è molto molto cinico quando descrive appunto il gioco del calcio dice il gioco del calcio è un gioco dove vince chi fa più volte punto questo è e quindi arriviamo al vero protagonista invece che è isagi ioici che è un attaccante un ragazzo che riceve l'invito a partecipare a questo programma proprio subito dopo che la sua squadra perde la possibilità di accedere alle nazionali a causa sua perché seguendo quello che gli era sempre stato insegnato nel momento decisivo di una partita ha passato la palla a un compagno meno esperto invece che tentare di tirare lui stesso e portando sostanzialmente la squadra a perdere e quindi nasce un po questo dilemma e quindi da qui si avvia un pochino la storia allora cominciamo a parlare delle caratteristiche di questo manga al di là della storia o intrecciandoci con la storia allora secondo me a livello di promozione anche di questo manga è stato fatto un errore tra virgolette nel senso che ci sta però porta secondo me a false aspettative il questo manga è stato presentato come un survival sul sul calcio infatti nell'edizione italiana e non mi pare che quella giapponese sia così in quarta di copertina è riportato lo slogan la suspense di una saga sportiva l'adrenalina di un survival game questo è blu lock e ora qui all'ultimo volume è sempre scritto così è sempre scritto così però è valido solo per i primissimi volumi adesso primissimi volumi assolutamente sì sì la prima fase diciamo così esatto il programma di cui vi parlavo prevede diverse fasi che ovviamente non andiamo a spoilerare ma solo la prima ha questa caratteristica da survival in maniera molto chiara perché viene detto fin da subito che chi viene squalificato perde il diritto ad entrare nell'under 20 per il resto della propria vita quindi se tu entri accetti di entrare e non vinci adesso vi spiegherò cosa vuol dire vincere non puoi più entrare nell'under 20 quindi puoi giocare a calcio in teoria nella tua vita però non non puoi più aspirare entrare nell'under 20 quindi nella nazionale giapponese e quindi dopo questa prima fase dove si cerca appunto di individuare in realtà fin da subito viene detto che saranno i primi cinque ok che potranno qualificarsi per entrare all'interno del della della nazionale mentre tutti gli altri avranno questo questo malus non potranno mai più entrarci nella loro vita però dopo questa prima fase diventa sostanzialmente una competizione come come succede in tantissimi manga vuol dire one piece è una competizione per raggiungere one piece più o meno è la è la stessa cosa quindi secondo me spingere così tanto sulla caratteristica survival è anche un pochino esagerato per quanto sia un po un live motive che rimane nell'opera e quindi alla fine ritornando un po sul personaggio di di yoichi yoichi è il classico protagonista del di un manga shonen in cui ti puoi identificare infatti una persona con limiti debolezze tipiche di una persona normale è un però un grande sogno che è quello appunto di diventare il miglior attaccante del giappone che è il sogno di tutti di tutti i personaggi che vediamo in questo i disegni come dire sono molto belli molto ben raffinati c'è il senso del movimento è molto ben rappresentato dal punto di vista del disegno secondo me non gli si può dire niente veramente sono delle tavole che proprio gasano e quello delle tavole sono tantissime splash page io e teo quando lo legge guarda il capitolo che è uscito ieri è composto da sei splash page è capito ne sono splash page è un capolavoro bellissimo un manga si definisce capolavoro in base a quante splash page ci sono in un capitolo nuovo metodo di misura di corpio ci sono almeno quattro un capolavoro poi volevo aggiungere un'altra cosa che secondo me porta a malinterpretare questo manga che è il fatto che le abilità degli atleti e i loro stati d'animo vengono rappresentati con delle figure tipo delle atmosfere delle ombre che sono appunto tipiche di dolly kill kill in dolly kill kill c'erano dei poteri magici ok dei poteri che venivano rappresentati si chiamavano proprio fantasmi che venivano rappresentati con delle ombre ecco l'autore che si occupa appunto del disegno usa questa stessa tecnica e qualcuno erroneamente pensa che siano personaggi che giocano un calcio fantasioso fantastico in realtà non è così sono solo rappresentazioni per enfatizzare la anche la bellezza diciamo delle azioni in realtà il calcio di bluelock visto da calciatori è estremamente realistico è vero che ci sono una marea di trick cioè c'è una sovrabbondanza di trick ma sono tutte cose che si possono fare e si fanno effettivamente nel calcio io e ai teo per esempio abbiamo visto numerosissime clip su youtube e altri social dove vengono proprio replicate anche su tik tok tra i trend spesso c'è gente che prova a rifare i tricks di bluelock mi è capitato assolutamente tra l'altro questo discorso qua che tutti i personaggi hanno un'abilità caratterizzante particolare hanno delle caratteristiche specifiche mi ricorda molto un altro manga che mi piace proprio per questo elemento che è dottor stone in dottor stone tutti i personaggi hanno una caratteristica peculiare questa cosa mi gasa molto mi piace molto pensavo kuroko no basket è molto simile non l'ho letto quindi non posso dire no ma è sì però giusto per anto a me è piaciuto visto l'anime di kuroko no basket ogni personaggio la sua abilità che poi risulta essere proprio un'abilità un superpotere uno che prevede il futuro è un'abilità però guarda che anche qui ci sono cose che si possono fare il real life sì io ti provavo a passare il basket al tempo provavo a passare le palle come faceva kuroko però non diventava invisibile come lui non diventava invisibile no no beccava qualcuno in faccia croteva al massimo poi altre cose che secondo me lo rendono speciale questo manga è il fatto che è particolarmente imprevedibile soprattutto nelle prime fasi nel senso che tu immagini che il protagonista vada sempre avanti cioè le vittorie tendi a immaginarle dici vabbè adesso qua ovviamente l'autore è costretto a fare questo fare quello fare quell'altro invece è imprevedibile totalmente soprattutto all'inizio cioè tu ti aspetti una cosa poi succede l'esatto opposto poi dici ok qui succederà lo sposto di quello che mi aspetto invece no succede quella roba cioè ti incasina all'inizio è imprevedibile è oggettivamente imprevedibile soprattutto nella prima parte quella propria eliminazione che mi colpi di scena sono usati molto bene in quel caso sì un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che questo manga utilizza questa storia per fare una riflessione sulla cultura giapponese e sulla contaminazione con l'occidente sostanzialmente quindi fa una riflessione sull'importanza dell'avere un ruolo nella società giapponese e allo stesso tempo ci si confronta con una cultura occidentale dove invece l'individualismo e quindi l'egoismo la fanno da padrone mentre nella cultura giapponese l'egoismo e l'individualismo è vista come una cosa negativa quindi è bello perché secondo me è un è un giappone che gioca una partita che non è abituato a giocare insomma quindi è molto interessante un'altra cosa che invece mi ricorda un altro manga che io amo tantissimo che è air gear dio great è il fatto che c'è questo tema del divorarsi a vicenda che viene veniva usato quindi insomma siccome devi dominare devi dominare tutti i tuoi avversari ma anche i tuoi compagni quindi diventi più forte divorando le altre persone a livello metaforico e dopodiché tornando al tema del calcio mi piace molto la costruzione delle prime fasi dove praticamente Jim Paci costringe i partecipanti al block a ripercorrere il calcio dalle basi cioè da da come è nato nella mente dei bambini cioè se voi è stato bellissimo perché in quel periodo quando ho cominciato a leggere il mio bambino ha cominciato a giocare a calcio io vedevo esattamente queste cose cioè se voi guardate dei bambini che giocano per la prima volta a calcio cosa li vedete tutti egoisti tutti vanno la caccia al pallone tutti quanti tutti danno la caccia al pallone tu nessuno rispetta un ruolo tutti vogliono il pallone tutti sono estremamente egoisti e pian piano si viene a costruire un percorso che viene molto ben rappresentato nel manga perché dallo zero cioè che è questa situazione di caos totale si passa all'uno cioè c'è un momento in cui una persona emerge e porta ordine all'interno di di questa questo adesso non vi racconto i dettagli però il manga ve lo spiega molto bene quindi c'è questo passaggio da zero a uno e poi da uno a cento ecco qua non vi spiego però non vi spiego oltre ma qui sarebbe spoiler quindi ci starebbe l'altra cosa che mi viene da dire è che secondo me rende questo manga molto apprezzabile piacevole anche per un pubblico femminile per esempio non è tutti uomini non è uno sport particolarmente appetibile per per il mondo femminile solitamente non per forza è per fortuna ci sono anche tante ragazze che amano il calcio però secondo me è blu locca queste questa a questa caratterizzazione dove ci sono appunto delle relazioni tra giocatori che sono simili a relazioni sentimentali quindi simili a uno soggio hanno scioglio e quindi anche questa secondo me è una cosa interessante e poi volevo allora abbiamo detto non è tanto un manga sul calcio anche se per quanto parli di calcio ma in realtà è un manga su sul mental coaching questo è l'argomento e è questo che me l'ha fatto apprezzare perché io sono uno psicologo io lavoro anche come mental coach quindi è il mio mestiere e sono rimasto strabiliato da come quest'autore utilizzi alcuni contenuti di carattere professionale proprio all'interno del proprio manga e tutti gli insegnamenti che che vediamo in blu loc sono applicabili a quel a qualsiasi campo dove ci sia una prestazione sostanzialmente quindi l'ambito sportivo ma anche l'ambito lavorativo l'ambito scolastico ovunque ci sia una prestazione e qua faccio una piccola digressione tecnica per farvi capire che se voi guardate questo manga non tanto come un manga sullo sport ma manga sul metal coach diventa qualcosa veramente di speciale e cos'è il metal coaching è un modello psicoeducativo che mira sviluppare il massimo del potenziale prestazionale di una persona sostanzialmente e lo sviluppo di queste abilità mentali richiede un programma di formazione che appunto è progettato e finalizzato a valorizzare i punti di forza e affrontare i limiti e le debolezze che tendenzialmente noi ci auto imponiamo e e quindi il il mental coach ti aiuta a focalizzarti sul raggiungimento sulla definizione sul raggiungimento di obiettivi e sull'affrontare le sfide quindi questo è il reale tema di 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 blu loc il il mental coach non è altro che un coach però della mente sostanzialmente senza stare a a dettagliare troppo quindi in questo manga si trattano tutti i temi tipici del mental coaching per esempio le cosiddette life skills si parla di autoconsapevolezza tutti i personaggi devono sviluppare una consapevolezza di sé vengono accompagnati in questo percorso si parla di gestione dello stress perché avere a che fare con una prestazione con la sconfitta con la necessità di offrire una performance di livello porta appunto ad alto stress e soprattutto tratta il tema del problem solving e del decision making quindi questi personaggi vengono accompagnati nel trovare il proprio percorso le proprie soluzioni ai propri problemi ea prendere le decisioni giuste se voi andate su youtube vi trovate una marea di bellissimi video di velasco per esempio dove spiega esattamente le stesse cose che vengono spiegate in blu loc e vabbè salto alcune alcune cose magari meno interessanti che si parla di atteggiamento positivo di ottimismo e poi c'è il tema dell'autostima che viene affrontato proprio nell'ultimo volume che devo ancora leggere ma teo mi ha spoilerato un po di così no non mi ha spoilerato niente non solo ho detto che c'è mi ha fatto vedere una vignetta e anche lì sono rimasto basito perché ho detto guarda cazzo ci mettono dentro proprio il il concetto del dell'autostima no sostanzialmente c'è il discorso di come costruire un'autostima positiva e quindi finalizzarla al al raggiungimento di obiettivi ma volevo concludere semplicemente facendo vedere visto che teo ci tiene non so se puoi farla vedere tu quell'immagine che vedi allora quando io Spotify mai sta mostrando una cosa che verrà descritta voce anche sta mostrando un grafico sul flow quando io ho visto questo grafico rappresentato nel manga sono esploso perché io ho detto oddio questa è roba che io uso quando faccio formazione mostro esattamente questa roba e non è una robetta che trovi insomma che conoscono tutti è uno schema veramente molto importante ve lo ve lo descrivo è piuttosto semplice in realtà è un un grafico che incrocia abilità e livello di difficoltà cosa vuol dire su un asse c'è il la capacità della persona la persona può essere più o meno capace può essere può avere livelli diversi di competenza può essere più o meno competente abile l'altra dimensione invece è la difficoltà della sfida cioè il compito che tu devi portare a casa la sfida che viene proposta può essere semplice o difficile fra l'altro questo schema qua lo si può utilizzare anche nell'ambito del gaming perché un altro dove dove si offre una prestazione ok quando l'abilità del giocatore è molto alta e la sfida è molto bassa emerge la noia perché sei troppo bravo rispetto a quella sfida che ti viene proposta quindi reagisci con la noia e la noia è negativa non ti porta a migliorarti al contrario se invece il livello di difficoltà della sfida troppo alto perché tu hai capacità troppo basse ecco che emerge l'ansia negativa che non ti consente di di affrontare quella sfida e quindi non ti migliori a metà strada quindi si crea una sorta di fascia che si chiama flow e infatti nel manga viene rappresentato come flow che è una sorta di percorso entro il quale tutti poi se ti collochi all'interno di questo percorso puoi crescere allora chi ti supporta il mental coach o anche l'insegnante se siamo in ambito sportivo cosa deve fare deve valutare il tuo livello di abilità e offrirti il giusto livello di sfida quindi deve proporti dei delle sfide dei compiti degli esercizi che siano un po sopra le tue abilità ma non troppo in modo che tu possa avere la percezione della sfida ma non avere l'ansia del della percezione di non riuscire a farcela a quel punto accettando accetti la sfida perché non ti comporta eccessiva ansia e accettando la sfida cosa fai ti alleni e ti migliori e quindi aumenta il tuo livello di abilità e a quel punto sei pronto per una sfida leggermente più difficile esattamente come quando giochiamo con i videogiochi aumentiamo il livello del videogioco perché abbiamo appreso delle competenze quindi in realtà è una cosa molto semplice però insomma spiegata in maniera molto tecnica il manga avrebbe potuto spiegarla in una maniera anche molto più più banale ecco questo discorso di proporre eh esercizi adeguati al tuo livello di abilità si chiama scaffolding questa cosa nel manga non viene detta però tra l'altro piccolo collegamento tornando prima su colocono basket la community è la zona vero? manga è la zona infatti in colocono basket c'è sta roba che è stata paragonata al flow che i giocatori di colocono basket terza volta lo dico a un certo punto della partita quando sono nel loro flow a sto punto scoprendolo entrano nella zona dove gli occhi diventano luminosi e fanno zig zag superpoteri e sono superforti in quel momento lì che effettivamente cioè al tempo tu pensi aveva un superpotere però col seno di poi la può analizzare in questo modo in quel momento loro sono nel flow ecco e questo è solo una delle tantissime cose come? è una situazione mentale che gli permette di aumentare le proprie capacità fisiche e proprio si immedesimano in quello che stanno facendo talmente tanto che aumentano pure le loro capacità fisiche e gli permettono appunto di fare qualsiasi non qualsiasi cosa però di fare diventare molto più forti sì sì sicuramente con esagerazione va a riprendere questo concetto e lo rende insomma gli da lo condisce in quella salsa insomma esagerata che ha quel filone di spocco non un pochino più no con personaggi con tecnica incredibilmente assurda o esagerata ecco concludo dicendo che secondo me tutti coloro a cui non piace blu lock ed è lecito è perché non apprezzano tutte queste come dire caratteristiche anomale di blu lock che non lo rendono effettivamente uno spocco tradizionale va proprio contro quasi tutto il canone dello spocco tradizionale ripeto è più un manga psicologico che un manga sportivo viene rappresentato fedelmente lo sport del calcio sostanzialmente a livello di tecnica ma in realtà a livello di valo valoriale a livello è il contrario di quello che ci si aspetterebbe da uno spocco quindi è forse sbagliato chiamarlo spocco soprattutto se per spocco intendiamo quello che ha detto michele in apertura quindi siamo d'accordo a questo punto di vista io che non amo gli spocco amo blu lock te l'abbiamo fatto rivalutare un secondo te l'abbiamo fatto rivalutare un po carp blu lock oppure no perché esattamente perché esattamente il contrario di quello che piace a me a me piacciono gli spocco realistici proprio cioè sono un fan degli spocco realistici ma blu lock proprio come anche in azuma 11 per esempio non mi piacciono perché estremizzano il significato di anime cioè di manga e anime sportivo quindi no non è proprio da me ma io so che ci sono tantissime potenzialità in blu lock e le riconosco soprattutto da per le persone a cui appunto non piace lo sport non piacciono gli spocco sono sicuro che gli piacerà al 100 per cento blu lock io ho provato e ho provato a leggere il manga anche dopo che ho visto l'anime perché l'anime ha un sacco di problemi quindi lasciamo perdere proprio tra la cgi ma anche in generale che l'animazione in generale si è proprio statico e il manga invece da quel punto di vista è meglio ma io ci trovo proprio dal mio gusto personale proprio un difetto nel cioè proprio nel come mi entra la storia non mi emoziona per niente gaza quello sì ma non mi emoziona e per me la proprio la roba più importante quando leggo o guardo uno spocco è l'emozione effettivamente una sensazione molto diversa rispetto agli altri spocco che leggo io sono trascinato dal gasamento quando leggo block non riesco a fermarmi perché devo andare una pagina dietro l'altra perché mi gaso cosa succede cosa c'è quasi più come manga di altro tipo esatto di altro tipo è un po' come se ci fosse quasi soltanto quella componente ovviamente negli spocco c'è sempre la componente del gaso in tutti però ecco in blue lock io ci vedo soltanto quella però io in realtà la vedo in maniera leggermente diversa anche se poi arrivo alle stesse conclusioni secondo me blue lock è molto mentale e molto cervellotico se volete dire un termine critico cioè si sta molto all'interno della testa dei personaggi forse anche troppo si sta esclusivamente su questo e quindi alla lunga stanca ovviamente non stanca chi fa questa cosa di professione no eh cioè io che faccio questa cosa di professione non mi stanca però capisco che possa stancare effettivamente ehm ci sono delle componenti emotive sono presenti anche abbastanza mi viene da dire ma in una chiave completamente diversa da quella che di solito c'è negli spocco però allo stesso tempo potrei fare la critica opposta potrei dire siamo sicuri che i manga sportivi quelli spocco veri classici siano più realistici secondo me sono diversamente realistici perché quello è lo sport ideale cioè quello che viene rappresentato negli sport negli spocco classici è lo sport ideale dello sport ma lo sport vero è così cioè dovrebbe essere così ma nella realtà spesso non lo è cioè in alcune realtà lo è lo è molto per esempio può essere uno strumento per uscire dalla povertà può essere uno strumento di aggregazione lo è per fortuna spesso ma tante altre volte invece è proprio il contrario di queste cose quindi realismo dipende da cosa intendiamo per realismo infatti io leggendo più l'occhio ho attuato proprio una sospensione dell'incredulità è quello che vorremmo vedere nello sport è lo sport quindi lo spocon classico è il sogno è lo sport come dovrebbe essere lo sport è lo sport ideale invece quello di blu lock è uno sport antisportivo quasi mentire cioè parlare per uno sport di squadra ci sta eh però siccome io cerco cose che vanno fuori dal dagli schemi e mi piace per questo io devo fare delle considerazioni no sì allora carpe non lo sa a me il calcio non piace per niente come sport non da praticare proprio dal punto di vista di spettatore ok ho giocato l'ho seguito non lo sopporto più le con blu lock ok lo sai e ho seguito altre opere che si avvia anime il mio manga sul calcio sono queste poche opere troppo appunto awashi di cui ho visto l'anime che faceva ridere perché per me quando uscì l'anime di awashi è arrivato il manga in italia di blu lock o per me non l'ho letto io perché non fosse arrivato insieme e i due punti di vista erano totalmente opposti mi stava divertendo quindi se mai arrivassi in italia lo compro non è una critica awashi questa poi vediamo e il protagonista di awashi che si chiamava au qualcosa lui è un egoista è un egoista come isanghi nel presente però l'allenatore lo rimette a posto dicendo in realtà deve collaborare con la squadra e poi succede una cosa simpatica che lo fa retrocedere per chissà sa no e però non mi ha colpito probabilmente stavo leggendo blu lock che diceva totalmente l'opposto di smetterli pensare come squadra devi pensare come singolo in quel caso per me ha vinto blu lock perché a me non piace il calcio forse e quindi mi ha colpito di più blu lock altro sport altro anime a tema sportivo che ho seguito è stato captain su basa solo l'anime quello che è uscito recentemente per remake e lì esattamente come awashi che l'ho seguito o la maggior parte di spocon come ha i più che io amo la maglietta adesso addosso vince il gioco di squadra la passione del volercela mettere tutta per vincere insieme alla squadra che in blu lock non c'è poi attualmente ci sono delle vere partite di calcio in blu lock ma nessuno gioca di squadra io lo pensavo in caso sì ma secondo me la cosa che ha fatto proprio amare blu lock alle persone è che è arrivato diciamo dal nulla e ha stravolto completamente il il termine spocon e l'ha fatto in un modo inaspettato secondo me quindi ma secondo me è sbagliato chiamarlo spocon già dire è un è un manga che parla di calcio parla anche di calcio parla anche anche di sport anche di calcio è un mio blog perché comunque ogni boys lover che bl a parte quello ma seriamente è pieno di coppie ogni ogni partita viene presentata una nuova coppia ogni già che adesso praticamente non è uno sport è tutto un meme anche se avviene davvero isagi è il nuovo è la persona amata da tutti ogni volta da una persona diversa che lo vuole come attivo nella coppia diciamo no è pieno di passivi e lui è l'attivo principale che si scontra contro gli altri attivi gli attivi sono gli ego sono quelli che hanno l'ego individualistico e ci sono tante persone con l'ego collettivo collettivismo che si dice mind eh non l'ho letto teo quindi non lo so vabbè devo definirla anche orgia a sto punto no che alla fine risulta di essere soltanto dei passivi nei confronti di isagi e quindi questo campo si sta un po sviluppando in una maniera che non è più incentrato sul io 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 ma ci sono dei grandi io e dei subordinati che supportano l'io dico quest'ultima cosa questo è un manga sul mental coaching e come dicevo prima mental coaching può essere applicato a qualsiasi cosa dove è prevista una prestazione infatti sono buta per esempio quando parlava di block diceva tu prendi block togli il calcio gli metti dentro qualsiasi altra altro sport e funziona lo stesso e ha ragione tu potresti metterci anche il lavoro puoi metterci anche parlare anche di sesso per esempio perché anche nel sesso c'è una prestazione qualsiasi cosa che mette ansia che c'è che ha una prestazione va benissimo parla di questo non parla dello sport è per quello che dà fastidio agli sportivi quelli duri e puri quelli che avvano la notte si incazza perché non parla di sport alla fine no no ma a me piace tantissimo la componente psicologica è un po' troppo è un po' troppo caricata è un po' troppo anche tecnica se vogliamo ma carpe invece di che manga ci di che awashi ci parla oggi di che awashi ci parla manga sportivo ci parli questa sera allora io oggi volevo proporre un manga che in italia è inedito ed è il manga che per me che non ha fatto nessun altro manga è riuscito a suscitarmi talmente tante emozioni profonde intense come nessun altro manga come dicevo in pre stream io non sono un grande lettore di manga e quindi questo è stato il primo manga che veramente mi ha fatto sentire wow cioè mi ha fatto proprio dire wow ci sto leggendo qualcosa di veramente emozionante che mi è entrato dentro sin da subito ed è b blues un manga che come awashi è edito da shogaku kan la storia di moto yuki tanaka che ha fatto soltanto tre manga che sono kenil cioè non kenil guerriero ha fatto la direzione artistica di kenil guerriero di buchi giri e caro fratello e infine b blues ha lavorato più nel mondo anime prima che ne diciamo soltanto soltanto nel film di kenil guerriero e poi il resto ha fatto tutto manga e niente a 49 volumi la cosa bella è che appunto case editrici appunto se ci stanno ascoltando aprite bene le orecchie è concluso è concluso attenzione è interessante però 49 volumi si spaventano tra l'altro io ho comprato ho comprato talmente tanto mi ha emozionato tutto il manga in giapponese perché io quando quando qualcosa ce l'ho anche qua in questo momento lo sto facendo vedere in camera cari amici di spazio hai in mano un pizzello gigantesco a forma di manga diciamo cavolate si è stato concluso tra l'altro due anni fa soltanto ed era in corso dal 2011 perfetto allora la storia ruota attorno a questo ragazzo ryu ichijo che vuole entrare nella nazionale di calcio del giappone è una premessa che vediamo in tantissimi spocchi classica è classica ma succede una cosa molto particolare infatti secondo me anche questo è ha preso spunto da spocon del passato no c'è un avvenimento molto crudo ok il protagonista si infortunia non dico come succede intorno al capitolo 10 circa quindi abbastanza presto però non te lo dico ok è però un incipiente importante perché poi è proprio il cardine della storia alla fine proprio basato molto su questo su questa cosa dell'infortunio tipo al finale sarà tipo esatto uno non se lo aspetta perché ti costruisce questo personaggio che è piccolo parliamo di un ragazzino delle elementari va in quinta elementare si stava iscrivendo in una scuola abbastanza prestigiosa alle medie per giocare a calcio e succede questa cosa che ti stravolge completamente tutto infatti poi la storia si concentrerà su ryu che si unisce al club di calcio delle superiori perché le medie non le può più fare dato che è in riabilitazione ma allo stesso tempo non demorde e se all'inizio dice non voglio più fare niente mi arrendo non ce la faccio a continuare perché sono messo di merda non posso fare niente non demorde si allena nonostante sia infortunato e lavora attraverso i resti delle sue ferite per raggiungere il suo obiettivo quindi poi la vera storia comincia un poco più avanti dove lui è un po' più grande e vedremo proprio la sua ascesa verso il professionismo la forza del sogno c'è in questa prima parte il sogno è così grande che ti porta a superare i tuoi limiti esatto attraverso proprio la vita del protagonista il manga cattura questa cattura magistralmente oserei dire l'assenza cioè l'essenza del calcio ci sono schemi spiegati da dio tantissimi temi come la perseveranza la raggiunta di un obiettivo il protagonista è molto intelligente si porta sempre la squadra sulle spalle poi la lettura è veramente scorrevole e vi entrerà nel cuore al cento per cento ma a livello tecnico magari paragonandola anche con a Oashi dove magari molti hanno visto l'anime visto che comunque aveva raggiunto un bel livello di popolarità è impostato così cioè si vede molto i movimenti la tecnica il tipo di insomma gioco che il giocatore deve andare a effettuare anche coordinandosi in azioni corali con la squadra eccetera oppure un pochino più approfondito meno approfondito ma per capire anche il livello diciamo si no è molto approfondito però in realtà un po' meno di Oashi ma non in senso negativo perché comunque è sempre scorrevole qua mi collego anche a quello che aveva detto Teo ci sono tantissime splash art guardando i mic su Google è molto bello si no disegni spettacolari veramente poi lui è pure uno specialista delle punizioni quindi ogni volta che c'è una punizione ti gasi però dici ce la fa quindi il suo superpotere sono le punizioni il suo superpotere è che è unbalanced ha senso è troppo forte lui e in qualche modo secondo me l'infortunio è perché dovevano bilanciarlo altrimenti non la convergeravo sin dall'inizio un po' come Cicli di un rock all'elementare era esatto esatto bravo all'elementare questo qua era fortissimo parlava come se fosse un quarantena no sto scherzando non era un quarantena però era molto intelligente quindi sì diciamo che si potrebbe paragonare ad Awashi infatti se non sbaglio i due autori consigliano il manga a vicenda se non ricordo male secondo me è un pochino complicato che arrivi in Italia per il fatto dei tanti volumi è un peccato anche perché comunque gli editori spesso sulle storie sportive non ci credono troppo le vedono sempre più come un azzardo più che hai capito qualcosa che possa raggiungere il pubblico facilmente e purtroppo quasi tutti gli editori si sono già scottati con un manga lungo sul calcio quindi è questo un po' un problema Giant Killing per Planet Manga che comunque io lo seguo ma non ha tutto questo grande pubblico lo è stato anche Angel Voice per J-Pop che magari non ha avuto questa diffusione particolarmente ampia comunque un massimo rispetto ti notavo da sia Angel Voice anche se l'hai nominato più volte ma se un manga sul calcio lo chiami Angel Voice non va ma invece era quello dello stesso creatore di Tsubasa non mi ricordo se era quello no 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 ok mi sono confuso no comunque secondo me bisogna prendere quello giusto secondo me al momento lo Spokon perfetto da portare in Italia è Awashi soprattutto perché c'era veramente tanto hype durante l'uscita dell'anime secondo me io ho paura che si sia perso un po' il momento è quello il problema capito se non lo portavi lì capito adesso forse con la popolarità che sta un po' scemando diventa un pochino più difficile perché anche Awashi sta comunque diventando un manga abbastanza lungo esatto ma secondo me mira diventare una cosa alla Hippo vediamo un pochino forse come Hippo magari no perché sono davvero tantissimi volumi però comunque Awashi sono già circa 34 volumi se non mi sbaglio quindi comincia ad essere lunghino sono tanti sono tanti sono tanti invece sta andando avanti anche piuttosto rapidamente gli autori sono molto produttivi quindi un manga che va avanti molto secondo me velocemente e anche questo qui è manga premiato perché Awashi ha vinto anche il 65esimo Shogakamanga Award comunque è stato discusso sotto tanti punti di vista però in quel momento lì non è arrivato ed è stato un po' secondo me è un'occasione persa poi ci può sempre essere qualche meccanismo che qualche manga lo ritira in ballo se pensate si era persa anche l'occasione di portare Nishaldi che ai tempi c'era stato l'anime che aveva avuto una popolarità pazzesca l'Eurobeat eccetera poi è arrivato dopo tanti anni ed è stato riproposto in modo anche originale adesso stanno scendo tanti manga sulle auto anche in scia quello che è stato poi il successo di Nishaldi ho visto da poco overtake mi è piaciuto abbastanza sono tutte comunque situazioni molto 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 interessanti secondo me anche per dire Nishaldi è un'altra storia quasi Spokon praticamente ha sicuramente le dinamiche dello Spokon perché comunque c'è la sfida c'è la crescita del protagonista però non so se considerare uno sport le corse clandestine di auto in giro per le montagne è quello anche se ci sono i team anche se ci sono le squadre però sì lo possiamo considerare per tutte le dinamiche però è qualcosa di davvero particolare invece tu Bonteo questa sera è una cosa molto breve in tre capitoli e l'ho recuperato di recente vedi già al tempo il primo film di recente l'ho recuperato il primo il secondo e il terzo film mi ha fatto molto emozionare e si tratta di Cars si può definire uno Spokon Cars comunque c'è la sfida di voler dare il massimo se è Tam e Queen si impegna fino all'ultimo il terzo film esorbitante lui ormai è invecchiato ci sono le macchine nuove che vanno a velocità della luce e lui è vecchio però lui ha l'abilità è andato ormai però la forza del sogno anche qui lo fa lo fa arrivare lo mega in fissa con Cars vatti prima lo stavo salendo per cercare le macchinine ma non le trovo poi cercherò la prossima volta comunque stasera vi parlo di un altro manga sul calcio ok ok mi auguro italiani medi italiani medi ti piace il calcio poi leggi solo manga sul calcio allora io ho letto allora per la prima ho letto due manga sul calcio uno è Blue Lock che non è manga sul calcio ma è un manga assolutamente al coach ho visto l'anime di Captain Tsubasa la prima stagione la seconda stagione devo ancora recuperare l'ho visto solo il primo episodio ti è piaciuto la prima stagione? tanto sì perché ci sono alcuni personaggi di Captain Tsubasa che sono davvero belli tipo vabbè e poi ho visto da piccolo guardavo sempre Galactic Football era molto bello no era bello Galactic Football è bellissimo ma sai Teo che forse ti piace compagnia dei Celestini se anche quel però mi è stato consigliato da Ivan che è un ragazzo del nord est diciamo che questo manga è stato concluso solamente perché io e Ivan abbiamo rotto le scatole a Goen all'infinito che portasse i volumi mancanti mi chiede male ha spiegato che un manga di Goen è un seinen è uno dei pochi seinen che è pubblicato dal 2011 2013 quindi relativamente recente non è un manga se fu lo stile lo sia dopo quando spiegherò ma perché spiega perché perché dai aspetta aspetta ai limiti ai shield comunque sia il primo volume d'Italia sarà uscito nel 2018 17 quello che l'è il secondo volume è uscito quattro anni dopo quindi un fallimento totale un classico sì un classico di Goen il manga di cui parlo tu probabilmente non lo conosci Tarp però c'è da te lavoro quindi prendilo vediamo che è Pride io l'ho preso l'ho preso telecamere 4 volumi edizione edizione cartonata porno lusso 4 volumi da 6.000 pagine l'una copertina in pelle umana solo 6,95 euro che su Amazon paghi anche meno se proprio vuoi prenderlo su Amazon quindi comunque sia uno di quei pochi manga sono seri in quello che sto per dire con pochi volumi che rispetto perché nella maggior parte dei casi i manga finiscono prima perché hanno finito le idee Yuichi Takashi l'autore è la mia idea ok c'è un motivo per me ci sono magari facciamo una puntata sulle storie per distruggerti facciamo così dai c'è un motivo se Awashi va ancora avanti se B-Blues è durato 42 volumi se Bullock non finisce più se Ajimelo Ippo non finisce più perché hanno tanto da raccontare e forse manca che hanno un cuore da raccontare non per questo Pride è una cuore perché l'autore Yuichi Takashi altresì famoso per la sua opera più famosa ovvero Captain Tsubasa che veniva citata prima che è forse lo Spokin più famoso al mondo è uno dei più famosi al mondo praticamente si può dire che ha fatto partire quasi il movimento del calcio in Giappone sull'entusiasmo di Capitan Tsubasa e Takashi non ha fatto soltanto chiaramente Tsubasa come opera famosa ha fatto anche Ranma Yu-Gi-Oh Noin ma oggi parliamo di un suo altro manga non sono quei Takashi per l'amore ma oggi parliamo di un altro manga sul calcio ovvero Pride allora quindi velocemente in titolo giapponese Okori ho letto non si chiama in inglese ma non è importante Pride vuol dire orgoglio quando si parla di orgoglio penso sempre a Escanor di Seven of the Seas comunque sia Pride è ambientato in Hokkaido che già questo è bello perché i giapponi di solito i manga in giappone sono sempre ambientati a Tokyo o giù di lì un manga ambientato in Hokkaido come un altro simanga famoso come Golden Kamui sono belli nord del Giappone quindi un ambiente freddo Hokkaido uguale bello per te ok vai Hokkaido uguale bello e fin dai subito facciamo la conoscenza di questa squadra chiamata gli Akodate Troopers i giapponesi sono soliti dare il nome della città più uno sponsor al nome della squadra ma più che sponsor un nome di fantasia spesso vabbè vabbè gli Akodate Troopers una squadra che milita nella serie B del Giappone chiamata Japan League 2 il cui obiettivo è andare nella prima lega ovvero la nostra serie A il paragone la promozione la promozione essere promosso in serie A nello specifico conosciamo questo ragazzo chiamato Yoshida ragazzo ormai non più troppo perché è un ex calciatore della nazionale era un attaccante che però si è dovuto ritirare per un infortuno quindi qua è simile in realtà quello ha raccontato Karp prima però è avanti con l'età il ragazzo ha più di 30 anni comunque sia non me lo ricordo in realtà quanti anni ha però dovrebbero avere tutti più di 30 anni diciamo che è nell'ultima parte della sua carriera quindi chiaramente quello pensiamo stessi dicendo nell'ultima parte della sua vita mi chiamo no 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 mind per favore tocchiamoci perché dopo un infortuno si è si è rotto la caviglia ha fatto diverse operazioni non sognava di tornare a giocare però gli ha codati troopers l'hanno reclutato per farlo splendere un'ultima volta e vorrà essere lui quello che porterà in serie A in Japan League One la squadra oltre a lui rincomprisonati altri personaggi che hanno un sogno simile c'è un altro ex calciatore della nazionale quindi si lega sempre tutto alla nazionale per quanto riguarda i giapponi giapponesi si chiama Yoshida no scusate Yoshida è questo qua scusami si chiama Iwazumi che lui era un ex difensore della nazionale quindi un tipo molto piazzato una cosa in cui i giapponesi sono molto bravi nel calcio ovvero la difesa il muro il muro catenaccio catenaccio è l'italiana grande manga catenaccio mamma mia che questo Iwazumi ha 41 anni quindi per un mondo del calcio nel mondo del calcio è molto anziano e vuole terminare la sua carriera qua negli Akodate Troopers ovviamente avranno avuto molti soldi questi tipi qua pensavo è tipo il parma di Gigi Buffon ok sì pensavo così e e questo è il primo volume l'autore aveva intenzione di fare delle storie brevi come viene raccontato alla fine o nel primo o nel quarto volume ora non mi ricordo l'ho visto prima il secondo volume inizia non so se dall'immagine si vince con un altro personaggio proprio un'altra storia totalmente scollegata quindi tecnicamente sto facendo spoiler di cosa viene nel secondo volume ma è il manga non è niente che inficcia il godimento del manga vai tranquillo nel secondo volume parla di Roaki Kono che anche lui è un ex attaccante della nazionale giapponese che si è ritirato dopo un infortunio quindi ha sempre la stessa storia però con un altro protagonista e anche lui viene reclutato da una squadra della Japan League 2 ovvero gli Oita Oita Phoenix non mi ricordo in che parte del Giappone è ambientata questa parte e questa storia è ambientata invece in due volumi quindi nel volume 3 e nel volume 4 però qua è presente anche una donna che è la medica la dottoressa della squadra e questa storia qua mi ha ricordato abbastanza Captain Tsubasa perché il protagonista è identico da Tsubasa un po' assomiglia un po' disegnatore quello e la ragazza è una delle tante ragazze di Tsubasa comunque nei manga mi sono iniziato a tappare il naso non ti capisco il motivo in un'intervista Tsubasa che ha fatto a Takashi se non sbaglio parlava del fatto che Tsubasa è un manga che parla molto di amore e c'è presente il calcio e c'è presente anche l'amore anche se vabbè semplici c'è l'infatuazione c'è il fatto che comunque vedi sul campo il tuo idolo e quasi te ne innamori quindi tu con il secondo e il terzo volume ti dimentichi che si era iniziato a parlare degli Accordate Troopers come tu vuoi sapere che fino hanno fatto gli Accordate Troopers qua mi racconti di un'altra squadra un altro ragazzo che ha un sogno sono diversi di carattere chiaramente li distingui e poi arriva il quarto volume dove si vede che entrambe le squadre sono nella classifica più alta della J2 non lo so come si dì che è già con il J2 boh vabbè sì J2 ci sarà questa partita finale tra gli Accordate Troopers e gli Alta Phoenix per vedere chi andrà alla fine della J1 e quindi vedrai i due protagonisti che hai conosciuto in due storie separate sfidarsi per il loro sogno e adesso ovviamente Teo ci dirà chi ha vinto alla fine no no ho visto che non mi ricordavo tra l'altro la fine del primo volume l'autore scrive una cosa che ora vi leggo proprio perché mi aveva colpito già dal primo volume questa cosa appunto che scrive a tutti coloro che hanno letto queste storie mi auguro che questa lettura mi abbia esortato a provare orgoglio per il vostro lavoro se così sarà stato potrò dire di aver addempiuto il mio compito di autore ed è bello ma che fa vedere che loro appunto nonostante abbiano 40 anni 35 anni che non è tanto ma ti rispetto però nel mondo del calcio è tanto poche persone hanno giocato fino a qualità e effettivamente è quello il filo conduttore è proprio l'orgoglio di questi persone che nonostante il fatto di essersi ritirati per l'età come il secondo il difensore o gli altri due che si sono ritirati in seguito agli infortuni non rinunciano al loro sogno al loro passione di giocare a calcio prendendo un ultimo ma chance il loro obiettivo è portare in serie A la loro squadra che li ha colti nonostante le nevolezze chiaramente i due attaccanti non sono più gli attaccati in un tempo dopo un infortunio dovranno un attimo ricambiare il loro modo di giocare ma così di pancia cos'è che infatti cos'è che ti ha convinto che ti ha colpito proprio di più in questo titolo è proprio banalmente è come si vede il loro orgoglio la loro passione loro sono molto orgogliosi di essere stati dei giocatori voglio dimostrare di essere ancora dei giocatori nonostante tutto a me personalmente è giusto il fatto che sia una storia incredibilmente umana perché si vede un lato del calcio che normalmente è un po' nascosto anche chi arriva a fine carriera anche psicologicamente come vive certe situazioni psicologicamente che non sei più anche così responsivo dal punto di vista fisico e anche dopo un infortunio soprattutto che ti trovi ad affrontare di nuovo le sfide del campo avere a che fare con compagni di squadra più giovani che hanno un'esperienza diversa sono tutte dinamiche del calcio secondo me realmente esistenti e anche molto profonde che in questi due volumi per quanto sono storie brevi sono trattate secondo me molto 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 bene ed è bello perché fa vedere un lato diverso dello sport che normalmente siamo abituati a vivere e a goderci i disegni sono classici perché proprio l'autore Yoichi Takashi lui disegna con quello stile lì e quindi i disegni sono molto simili a quelli come diceva Teo di Capitan Tsubasa però è secondo me è proprio anche un seinen è stato pubblicato su una rivista seinen perché ha proprio dei contenuti che a livello psicologico comunque a livello anche umano toccano dei temi che secondo me sono abbastanza profondi e importanti che non tutti gli Spokon vanno sicuramente a toccare che poi comunque non si vede giocare a calci in realtà non più di tanto è più raccontato è giusto dai sì nel senso non si basa su la partita in sé quanto alla loro vita la loro preparazione alla partita o al loro futuro la fine della loro carriera chiaramente sì no ma la tante sono tavole davvero carine non disegna male su Takashi farà carriera prima ti ho nominato Angel Voice e ho detto e mi riprivo a Pride a Pride come conoscevo perché entrambi non li ho letti di Angel Voice che Pride e e mi ricordavo che ci fosse quest'altro manga di Takashi ma secondo me è una cosa che potrebbe piacerti perché comunque è anche breve e ti fa vedere anche una parte diversa dello sport ma io poi questi qua più particolari li adoro ma poi il bello di questa storia breve che è volutamente breve perché l'autore si poteva permettere di fare quello che voleva non è breve perché è stata cancellata e poi venduta come il capolavoro in Italia no no Ayashim scusami Ayashim possiamo dire che Teo ha bisogno del medico di Pride sì sì Delo no non ho capito hai bisogno della infermiera di Pride no ah perché dove è che è stata scritta sta cosa cosa l'ho detto io è vero la certa mi si tappa al naso Michele Mari cosa devo fare tu che sei medico non gli arriva più ossigeno al cervello da congestionante nasale sono una rinazzina che ti devo dire no pensavo che stessi leggendo perché Peppe mi conosce in chat non so se stai leggendo un commento di Peppe che diceva che ho bisogno di trovarmi l'infermiera ma non dal lato l'infermiera ma dal lato di donna in quel caso farebbe entrambi comunque stavano citando Aoki Densetsu che in Italia che in Italia non credo sia mai arrivato il manga comunque ma tutti col blu si chiamano sti manga sul calcio è incredibile Awashi Blue Lock Blue Box ma è normale no no come quello che Blue Box no Blue di Blues che è sempre blu comunque sia ma è normale ma è blu red red blu ne parlavo l'altro giorno con una persona di sta cosa no ci sono diversi manga con il titolo period la compagnia dei cieli anche gli Spokon c'è un altro sull'MMA che si chiama Red Blue che è molto fiero in Italia ma lo stesso riprendendo i colori c'è Black Box no di Tsutomu Takashi che è recentemente uscito sulla box anche quello è un altro Spokon ma ha comprato da poco assolutamente atipico perché anche lì fa vedere la cattiveria dello sport c'è Red Dog Red Dog è quello dell'autore di Golden Kamui quello nuovo dell'autore di Golden Kamui che parla di Hockey sì 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 quello è molto figo speriamo che arrivi anche quello è un altro titolo che io sono Satoru Noda mi fa impazzire quindi io vorrei la ristampa cara J-pop di che vuoi di Ricudo eh Ricudo pure è un'altra storia molto interessante mi daria idea di qualcosa molto violento sì sempre sulla box che è spettacolare il soldo è mega appassionato di questo manga me l'ha consigliato più volte tanti ragazzi anche della community comunque soprattutto il soldo che mi piace un sacco comunque non la parla c'era un altro ricordati quello che dovevi dire c'era un altro manga inedito di cui ho visto l'anime che si chiama One Outs e anche questo è un molto quello sul football no sul rugby scusami no è baseball quello che intendi tu è All Outs scusa All Outs è vero è vero è vero no invece quello che intendevo io è One Outs ed è sul baseball ma anche questo si può definire molto particolare e quasi non spoken perché si concentra sulla psicologia è un po' come se fosse tipo gioco d'azzardo sul baseball fa vedere il lato oscuro di quello che c'è dietro la serie possiamo dire che comunque il baseball è lo sport nazionale giapponese per eccellenza è sicuramente lo sport più praticato lo sport più apprezzato ci sono tanti manga sul baseball che sicuramente molti non arriveranno mai ma alcuni sono arrivati che riescono a parlare diciamo attraverso lo sport di tante cose uno che è arrivato in Italia che secondo me avrebbe bisogno di una ristampa perché un manga splendido è Rookies Rookies racconta praticamente quello che dovrebbe fare veramente un insegnante nella vita per cercare di capire i ragazzi che ha davanti è veramente fatto super bene da questo punto di vista c'è questo kawato questo insegnante diciamo che ha avuto anche dei problemi nei suoi trascorsi scolastici anche per storie di violenza anche un po' particolare che si ritrova in questa nuova scuola ad avere a che fare con un gruppo di bulli che ha praticamente occupato il club di baseball e lo utilizza un po' per fare i cavoli propri sono lì a bighellonare e niente e c'è un ragazzo super appassionato di baseball Miko Shiba che vuole assolutamente giocare vuole poter esprimere la sua voglia di baseball la sua voglia di sport e kawato diciamo un po' anche andando a sfidare questi ragazzi andando a cercare comunque di coinvolgerli di rivalutarli anche dal punto di vista sociale riesce a trascinare questi teppisti in una squadra di baseball e li trasforma in una vera squadra ed è una storia bellissima anche quella fa commuovere ci sono alcuni passaggi davvero da brivido è uno di quegli Spokon che assolutamente piacerebbe leggere con una bella edizione io ho quella vecchissima in sottile prego la sua filetta sarebbe bello concordo tra l'altro è il titolo che ho dato anche al mio gruppo Telegram l'ho chiamato come quel manga è Rukis è veramente bello veramente veramente bello e non so comunque direi che per questa sera abbiamo analizzato tantissimi titoli anche molto molto diversi tra loro quindi sicuramente puntata molto interessante probabilmente in futuro si potrebbe anche riandare a ritrattare questo tema magari con un'ottica diversa io come sempre ringrazio tutti quanti per essere stati con noi soprattutto il caro mani del caro tio che sono con me in ogni puntata a supportarmi in questo superforma te grazie speciale al buon The Golden Carp che questa sera ci ha accompagnato in questa puntata ragazzi grazie per essere stati con noi e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao 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 io non ci paro neanche a sorridere tanto tu Spotify non si vede